segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te secondo te si tocca? beh è una di quelle cose su cui ci sarà queste sono delle cose in cui il punto finale lo vedrai soltanto col maxi emendamento perché tu uscirà la manovra dalla camera per poi andare a senato immediatamente dopo natale con la certezza che se torna alla camera è per l'esercizio provvisorio quindi soltanto quando il maxi emendamento uscirà dalla camera per essere approvata al senato saprai le cose e secondo me sono tante le cose che spunteranno e tante le cose che saranno questa è una costante di tutti i governi la manovra per come tu la vedi inizialmente per come finisce sono proprio come il famoso meme che gira sui social quando lo ordini su internet e quando ti arrivi a casa devo andare in pubblicità ricordo l'ultima fermata di Tommaso Labbate saluto e ringrazio Parvacetto Labbate